L'orizzonte della regione toscana è il superamento dei campi Rom con la creazione di soluzioni abitative diverse, lo ha detto il presidente Enrico Rossi nel corso di un briefing dopo il tragico inseguimento tra Roma e Firenze in cui ha perso la vita il 29enne Duccio Dini, travolto da un'auto mentre era fermo a un semaforo. Una strada già intrapresa anche con l'uso di fondi europei, con una strategia che deve far rispettare la legge, coinvolgendo i singoli territori. Insieme ai sindaci perché a partire anche da un piano nazionale, approvato nel 2012 e poi sviluppato anche nel 2014 con l'istituzione di un ufficio specifico presso la presidenza del Consiglio, perché si vada a fare un piano regionale con risorse adeguate al supporto dei sindaci e i sindaci sanno come si chiudono i campi Rom. La Toscana ora avvierà anche un programma di monitoraggio dell'evasione scolastica altissima tra i Rom. Sono 451 su 2000 che vivono nei campi Rom, quelli iscritti alle scuole toscane e la regione già finanzia progetti di integrazione. Un sistema di monitoraggio anche in accordo con Anci, con i comuni, che ci permetta di controllare che in effetti non ci sia evasione dell'obbligo, cioè che questi 481 studenti siano effettivamente tutti quelli in età di obbligo scolastico che sono presenti nella nostra regione. Nel corso del briefing sono state presentate anche le delibere adottate dalla Giunta in altri ambiti, tra questi l'economia circolare per stimolare il recupero degli scarti dei distretti industriali, tessili, carta e cuoio e quattro quinti del totale, ma anche dei rifiuti urbani per centrare il traguardo del 70% di raccolta differenziata entro il 2020. Per favorire questa chiusura del ciclo produttivo, che da un lato certamente riduce il conferimento in discarica, ma dall'altro sviluppa anche economia, occupazione e quindi ha una doppia ricaduta positiva. Tra gli altri provvedimenti adottati dalla Giunta, il Via Libera con 12 milioni e mezzo allo schema di convenzione con il Ministero dei Trasporti e Comune di Pisa per ampliare il canale dei navicelli e sul fronte del sociale le nuove linee guida per la formazione degli operatori che fanno pet therapy, la terapia dei pazienti con gli animali. Grazie 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 Grazie